Benvenuti in questo nuovo video dedicato alla tensione multipla. Il secondo livello di attenzione. Sarebbe l'esercizio reciproco della tensione divisa, che corrisponde al primo livello di attenzione. Anche in questo caso ho due punti di osservazione. Un punto esterno e un punto interno. Il punto esterno lo chiamiamo osservatore mobile, in quanto è un punto che è inizialmente fisso. Poi posso iniziare a spostarlo nell'ambiente circostante. Quindi è mobile per questo motivo, perché poi si sposta. Posso scegliere a piacere la posizione di questo punto esterno e da questo punto inizio quindi ad osservarlo. In questo caso l'altro punto inizialmente lo posso posizionare sempre lungo l'asse centrale, quindi la centratura è sempre sul respiro. La differenza rispetto alla tensione divisa è che in questo caso mi osservo dal punto esterno. Questo significa che mi osservo mentre respiro. La percezione avviene dall'esterno verso l'interno. Ad esempio posiziono un punto in alto e mi osservo dall'alto mentre respiro, mentre parlo, mentre compio determinate attività durante la giornata. Questo livello è molto semplice. Mi alleno a spostare la mia tensione attraverso appunto questo punto che poi si sposta. Quindi l'osservatore mobile esterno. Questo esercizio è importante ed è diverso rispetto alla tensione divisa perché se mi osservo dall'esterno riesco ad uscire fuori dalle identificazioni, dalle proiezioni, osservare i meccanismi che si innescano nella mia vita e quindi anche nelle relazioni con le altre persone. Quindi questo punto osserva anche tutto ciò che avviene, tutto intorno, quali sono i movimenti energetici, che cosa metto in campo, che cosa si mette in campo dall'altra parte e quindi questo aiuta tantissimo per i processi di trasformazione. È essenziale quindi sviluppare un livello di attenzione tale per cui riesco a riconoscere, a riconoscere in maniera autonoma ciò che metto in atto. E piano piano inizio a trasformare, inizio a trasformare interiormente, quindi inizio a prendere coscienza di quelli che possono essere questi comportamenti, atteggiamenti, parole, emozioni che emano. Qualsiasi cosa posso mettere in campo, lo osservo dal punto esterno e di conseguenza posso trasformarlo perché lo vedo, lo riconosco. E quindi in modo autonomo inizio a trasformare e a elevare la mia energia. Quindi l'energia cresce interiormente. Ed inoltre questo tipo di attenzione consente anche poi determinate connessioni. Perché se riusciamo a mantenere l'attenzione in più punti possiamo anche evidentemente fare delle esperienze corrispondenti. Quindi ricordare, riuscire a connetterci, avere connessioni telepatiche anche su più livelli di coscienza. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato in questo video. Trovate sul sito di esserilcambiamento.it sotto il lavoro pratico in sé alle quattro attenzioni, la tensione multipla con i relativi esercizi. Un saluto a tutti e alla prossima.